Quando torna a casa, decisa ad abbandonare la danza per dedicarsi al softball, Celia incontra l'affascinante Max Maxwell, il miglior giocatore di baseball della scuola. Celia ne è subito attratta e comincia a frequentarlo. Durante una passeggiata con lei, Max è vittima di un infortunio. La sua stagione sportiva è ormai compromessa e forse anche il suo futuro. Sentendosi responsabile dell'incidente, Celia vuole farsi perdonare. Ma in che modo?